Good morning Milano! Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati lunedì 18 marzo 2024, sono le 7.07, siamo qui su Cristal Radio per iniziare una nuova settimana di Good Morning Milano. Come state? Cosa fate? Dove andate? 331-78-535-555, il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, raccontarci tutto quello che avete fatto in questo weekend oppure dirci come sarà la vostra settimana. Non mi ricordo che io ho letto una story stamattina di qualcuno che dice ok inizia una settimana, sarà una settimana risico, così aveva detto, è interessante dover mettere insieme tutti i pezzi, riuscire a spostarsi di qua, di là, a spostare le truppe da una parte all'altra in Kamchatka per una settimana, insomma è interessante come già la domenica entriamo in quell'ansia da prestazione del lunedì. No dai, spero che vi siate goduti il weekend, io personalmente non tantissimo perché ho una malata in casa, poverina, l'altra metà della famiglia è stata malata questo weekend, truncillito o qualcosa del genere, quindi insomma è stato un po', mi è spiaciuto più che altro ecco quello. Poi voi avete, quando state nel letto con qualcuno che è ammalato, com'è la reazione? Riuscite a dormire? Non riuscite a dormire? Sì, no, non è facile, non è facile. E quindi buongiorno a tutti e buon risveglio a chi questa notte invece ha dormito e dormito bene. Iniziamo con la musica, iniziamo con una appena uscita, No Angels, Justin Timberlake. Justin Timberlake, No Angels, la nuova di Timberlake è uscita venerdì 15 marzo, beh non è che sentiamo proprio la mancanza, come dire, Justin hai fatto grandi pezzi nel tuo passato, questo non credo che poi vennerà nell'annovero dei miei preferiti brani preferiti di Justin Timberlake, che ce ne sono, eh, perché Cry Me a River, Cry Me a River, quella lì, no, bellissimo, cioè, fantastico, no, no, però insomma, magari al secondo ascolto, ecco, diciamo, al terzo ascolto, al quarto ascolto, vedremo, magari non lo ascolto più anche. Vabbè, comunque, 713, buongiorno a tutti ancora, vi ricordo il nostro numero di Whatsapp, 3317853555, vi ricordo anche però che questa settimana sarà una settimana, per alcuni abbiamo detto no, settimana risico, per altri settimana complicata, o meglio, si concluderà in maniera complicata, ve lo dico già oggi, perché venerdì c'è lo sciopero dei mezzi, eh, sì, sì, alla fine è un po' che non lo facevamo, e quindi benvenga che è un bel venerdì di sciopero. Braccia incrociate, leggo da Milano Today, questa settimana Milano va in scena lo sciopero dei lavoratori ATM, eh, il, eh, venerdì prossimo, il 22 marzo, il sindacato Alcobas ha proclamato, appunto, lo sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al fine del, fino al fine del, fino al fine del servizio, eh, per adesso, appunto, questa è la comunicazione del sindacato, ATM, appunto, eh, da questa comunicazione, quindi l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, quindi tutte le linee, sarà possibile dalle 8.45 alle 15, dalle 18 al termine del servizio. Ripeto, appunto, per ricordarvi quali sono i momenti in cui c'è lo sciopero, quindi non ci sono le fasce di, eh, garanzia. I tramvieri milanesi, ancora in lotta per i salari dignitosi, igiene, sicurezza, diritto alle ferie, contro i salari d'ingresso, l'aumento dei carichi di lavoro e le gare d'appalto. Eh, dopo sei scioperi aziendali e tre nazionali, eh, così dice il sindacato, quindi l'Alcobas ha indetto questo sciopero, appunto, del 22 marzo prossimo, appunto, venerdì, giusto ben detto, venerdì, sì, giusto venerdì, 22 marzo, bene, questo è quello che succederà in città, vedremo un po' come andrà, grazie anche ai whatsapp che stanno arrivando in questo momento. Alberto, buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Cristal Radio e buongiorno a Fabio, inizio nuova settimana di primavera densa di impegni e venerdì nuovo sciopero del trasporto pubblico. Ebbene sì, anche Alberto è sulla notizia. Questa cosa dello sciopero, comunque noi milanesi ci manda fuori di Tesla, cioè non... È lunedì, fra cinque giorni c'è lo sciopero, siamo già in sbatta adesso, siamo già in sbattimento forte adesso, siamo già qua che diciamo, no, venerdì dovevo fare, cosa devi fare venerdì? Fallo ai cinque giorni per farlo prima, no, proprio venerdì dovevo fare quella roba lì che ho fatto, cioè potevo fare venerdì scorso, non l'ho fatta, potrei farla fra due venerdì, non lo farò, la volevo fare proprio questo venerdì. È sempre così, avete organizzato feste, avete organizzato incontri, avete organizzato meeting, no, perché poi è sempre così, no, allora facciamo la presentazione, riunione aziendale, no, me la vedo, riunione aziendale, lanciamo il nuovo libro, a che ora facciamo la presentazione? Allora facciamo così, va bene, lo facciamo, ragazzi, ore 19, prendiamo la location, presa la location, manda gli inviti, manda gli inviti e tutto, poi cinque giorni prima ti arriva a dire, oh guardate che venerdì ce la sciopero dei mezzi, non verrà nessuno la vostra presentazione. Così, funziona così Milano, tu crei qualcosa e poi qualcuno arriva a distruggetelo in un attimo, eh vabbè, va così. Come va così come? Il traffico, come va il traffico? Io non lo so, ma chi sapete chi lo sa? Luce verde, quindi mi collego con luce verde per il traffico. Cosmo con l'abbraccio, due pezzi nuovi, eh, ragazzi, poi non dite che non vi mettiamo musica nuova qui su Cristal Radio, anzi, grazie all'ufficio programmazione per i nuovi pezzi che sono arrivati, il Radio Days, il 15, Radio Days, scusate, Radio Date, il giorno in cui escono queste canzoni, è uscita venerdì, noi, sono uscite dopo che, dopo che noi siamo andati in onda, quindi appena siamo arrivati qua abbiamo provato a metterle, eh, quindi siamo ben contenti. di darvi sempre musica nuova così da potervi alletare la giornata e anche la partenza soprattutto, che sappiamo essere sempre molto difficile, quella del lunedì, 331-7853-555, ve lo ripeto ancora, il nostro numero di Whatsapp per cercare di affrontare questo lunedì al meglio insieme a noi, insieme alla nostra musica e insieme anche alle notizie che leggiamo qua e là dai giornali. Allora, tutti e tre i principali siti da cui prendo notizie, che vi dico sono Milano Today, Corriere Milano e Repubblica Milano, aprono con la stessa identica notizia, una notizia che fa capire che come al solito non abbiamo mai nient'altro di meglio a cui pensare. Parliamo della scuola di Pioltello che chiuderà il 10 di aprile per la festa del fine di Ramadan. Allora, vi leggo i titoli per poi dopo entrare nella notizia. Milano Today, in titolo così, cosa sta succedendo con la scuola milanese chiusa per il Ramadan? Ok, cosa sta succedendo? E proprio dentro te lo spiegano. Mi Repubblica, Pioltello, scuola chiude il 10 aprile per la festa di fine Ramadan. Il prese dice gli anni scorsi solo quattro bambini in classe e il ministro chiede accertamenti sulle motivazioni. Corriere Milano, la scuola di Pioltello chiusa per la fine di Ramadan. Il prese dice le classi già semiguate per la festa, la Lega attacca. Abbiamo visto Silvia Sardone che ha fatto dei post e dei video dove dice non siamo in Arabia, siamo a Milano. Ovviamente chiunque sta dicendo la sua, tranne i diretti interessati che per fortuna invece poi hanno parlato, cioè soprattutto il prese della scuola ha spiegato e ha potuto spiegare una cosa che è normalissima e anzi logica. Cosa succede? Allora, le scuole hanno un calendario regionale di chiusure dato appunto alla regione. Ma esiste la famosa autonomia scolastica, nel senso che dentro dei certi paletti si non è capace di iniziare ad andare a scuola a metà luglio. Ma l'importante cos'è? Che la scuola faccia 200 giorni di lezione l'anno. Bene, ok. Questa scuola ha notato negli scorsi anni che il giorno della fine Ramadan la scuola era vuota. Praticamente andavano lì e non potevano fare niente. Tra parentesi, mi viene da dire che nessuno ha fatto questo anche con uno spreco di denaro assurdo, perché tu vai lì e spendi i soldi per tutto il personale che va lì, i latini accesi, i riscaldamenti, se vai il 10 aprile magari sono già spendi. No, no, non spendono il 15 aprile, quindi sono anche accesi. Tutto quello che è la mesa, tutto quello che è, sta di fatto che ci andavano in metà della scuola. Perché cosa succede? Questa scuola, nonostante le linee guida del ministero dicano che per l'interazione, le classi non devono avere una componente oltre del 30% fatta da studenti stranieri, sta di fatto che questa scuola arriva in alcune classi al 43% di popolazione straniera, la maggior parte di fede islamica. Quindi cosa succede? Che il giorno della fine Ramadan questi, giustamente, stanno a casa, perché fanno la festa. Tra parentesi, il prese dice attenzione perché in una scuola inclusiva come la nostra, spesso e volentieri anche i bambini italiani vengono invitati dai propri amichetti alle feste e quindi vanno alla festa anche loro. Quindi, oltre a quelli che festeggiano il Ramadan per convinzione religiosa, ci vanno anche quelli che sono semplicemente invitati o gli imbucati che vanno alla festa. Sta di fatto che quindi, cosa hanno fatto? Nel maggio scorso, quindi attenzione, quello che fa pensare è la polemica completamente sterile e inutile dell'oggi, che una parte politica sta, come al solito, strumentalizzando. E io dico come al solito, perché come al solito ogni parte politica strumentalizza questa cosa, perché anche dall'altra parte c'è una strumentalizzazione invece che viene presa come è un atto umanitario quasi, è un atto di civiltà. No, è una cosa pratica. A me non interessa perché rimane chiusa. Tra di fatto che questa scuola è, la maggior parte delle volte, quando c'è la fine Ramadan è completamente vuota, chiudiamola e facciamo così. Anzi, la può fare la scuola, perché la scuola appunto deve garantire i 200 giorni di lezioni, e l'ha garantito come apprendo un giorno prima. Eh sì, hanno iniziato il giorno prima questi. Sono stati così geniali che nel maggio scorso, quando hanno deliberato il calendario, hanno detto, va bene, come possiamo fare a avviare questa cosa? Allora, Pasqua dobbiamo chiedere, tenere chiuso, perché Pasqua, ah, perché poi tra i prenti, Pasqua non si tocca, eh, perché la tradizione e tutte quelle cose lì, va bene. Ma ci sta, va bene, possono essere d'accordo. Pasqua non si tocca, Natale non si tocca, il 25 aprile non si tocca, o giustamente le varie feste, il 2 giugno, tutte quelle feste non si possono toccare, va bene, perfetto. Però abbiamo questo problema del 10 aprile perché è la fine del Ramadan. Cosa possiamo fare? Apriamo un giorno prima la scuola, così la tiriamo chiusa al 10 aprile, così i 200 giorni sono garantiti, e tutto era posto. Tutto era posto finché una parte politica non l'ha strumentalizzato, e adesso c'è la grande bagarre, con tanto di ministro che non ha nient'altro a cui pensare, che ha un giorno di ferie, è un giorno di festa, alla scuola di Pioltello. Anzi, io gli direi, caro ministro, prenda l'attimino, c'è anche la metropolitana che arriva da quelle parti, prende, va lì, fa un bel giretto a Pioltello, magari vede in che condizioni sono messe le scuole, che insomma non sono mai messe benissimo, ma soprattutto magari vada a una festa, così almeno si fa una bella risata e capisce perché sarebbe giusto, e anzi un po' civile direi farlo, magari anche in altre scuole. Ma attenzione, civile non solo per un gesto di civiltà, integrazione, religiosa, quello che volete, no, anche solo per praticità. Se il 40% dei miei studenti non viene a scuola, sapete che c'è, io chiudo e tengo aperto un altro giorno in più. Io chiudo e inizio il corsi un giorno prima, quello che hanno fatto nella scuola di Pioltello. Complimenti al preside e a tutta la scuola di Pioltello. Loredana Mertè, pazza! Alle 7.33 minuti, un augurio a Loredana, che sappiamo essere stata ricoverata nei giorni scorsi, e adesso è tornata a casa, ma è ancora comunque in convalescenza, nel senso che adesso va un po' da riprendersi, quindi annullate le prossime date, ma sicuramente i fan diranno tanta tanta forza e stanno qui ad aspettarla, perché insomma non possiamo fare a meno di cantarla e di continuare a volerla rivedere dal vivo. Insomma speriamo presto di poterla rivedere presto. Abbiamo parlato di scuola e allora vado a leggere, se adesso la trovo, perché ho tantissime notizie questa mattina da leggervi dai vari, eccolo qua, dalla Corriere della Sera Milano abbiamo parlato di scuola e parliamo di insegnanti, perché c'è stato il concorso per insegnanti di primaria e scuola di infanzia più posti che candidati. No, no, avete sentito bene, sono più posti rispetto ai candidati, forse è la prima volta che sentiamo di un concorso pubblico dove succede una cosa del genere. Ebbene sì, 6.552 cattedre sono stati ammessi all'esame orale solo 5.856 persone. Eh sì. Pensate, quindi meno domande dei posti disponibili. Mai successo nella storia di concorsi pubblici, evidentemente perché non è più così attraente come lavoro. Potrebbe essere perché magari non avete dei contratti che siano contratti decenti, magari uno va a fare il precario per 200 anni, va in pensione da precario, che dite? Tra parentesi un altro problema grosso, solo il 10% di queste domande sono state fatte per concorrere per il sostegno. Quindi l'insegnante di sostegno, il famoso insegnante di sostegno. Così leggiamo la Corriere della Sera Milano. Partiamo dai numeri. Nell'ultimo concorso per la scuola di infanzia e della primaria, in Lombardia, i posti disponibili tra quelli comuni, che si chiamano insegnanti classici diciamo, e quelli di sostegno, quindi la totalità dei posti, sono 6.552. Gli ammessi all'orale, e qui quindi hanno superato lo scritto, sono solo 5.856. Rapporto meno di un candidato per posto. Eh sì, per la precisione 0,89, quindi in teoria se passano all'orale sono tutti presi queste, così diciamo che anzi, bisogna capire che è quello. Cosa fai a quel punto? All'orale lo fai passare o non lo fai passare? Se sei in dubbio, i voti come glieli dai? Perché se non fai passare della gente, qui hai un problema, hai meno posti, ancora meno gente che può lavorare in quel campo. Oltretutto c'è questo dato poi molto interessante, solo il 10% fa domanda per diventare insegnante di sostegno, quindi quelli di sostegno saranno molti meno delle cattere disponibili, e quindi vuol dire ore vuote, vuol dire ragazzi e ragazze, bambini e bambine, che non avranno il giusto sostegno che invece meritano, o che meglio serve, per poter anche integrarli meglio nelle classi, e quindi anche riuscire a fare giustamente, fare tutto il proprio lavoro. Ma qui è un problema, perché se noi abbiamo 6550 posti disponibili, come mai riescono a passare all'orale solo 5256? C'era poca domanda o c'era poca preparazione? E' questo un altro di quei temi che bisogna capire, perché qui c'è anche un problema di chi va a prepararsi, come ci si prepara e se si è preparati. Questo è il mondo del lavoro, ma sapete chi ce lo spiega bene? Filippo Poletti, che tutti i lunedì ci spiega bene, perché deve dirci buon lavoro. A te Filippo. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è formazione. L'85% delle aziende ritiene molto importante fare formazione in azienda, in aggiunta a quella obbligatoria prevista dalla legge. E quanto emerge? In un'indagine portata avanti dalla società milanese Giliti. L'investimento maggiore fatto oggi dagli aziende è rivolto alle hard skills, cioè alle competenze tecniche. Dunque benvenga la formazione, perché come diciamo noi di buon lavoro, chi si forma non si ferma. La seconda parola chiave della settimana è carriera. Complimenti a Carlotta Ventura, neopresidente di AMSA, l'azienda milanese di servizi ambientali. Benvengano le donne in posizioni apicali e Milano dà il buon esempio. La terza e ultima parola chiave della settimana è conciliazione. Regola ferrea. Dopo le 17.30 non si mandano più email di lavoro. È quanto accade a Bielle, una società nata a Torino e che si occupa di software gestionali. Benessere dunque per tutti a partire dall'armonia tra ritmi di lavoro e ritmi della vita privata. Buon lavoro a tutti. Carl Brave, parli parli insieme a Delo di Parla Parla, sembra detta meno. Parli parli, no, a quella cornetta dice la canzone, non dice a quel microfono, va bene, se non pensavo che l'avessero scritta per me. Mi piacerebbe. Carl, scrivi una canzone per me. Va bene, con l'odia anche, mi piace con l'idea. Invece andiamo avanti con le notizie. Leggiamo da Corriere della Sera a Milano, un po' di notizie qua e là. Abbiamo parlato di scuole, di insegnanti, parliamo anche di giovani. Perché la notizia è questa? Salute mentale in Lombardia, sempre più giovani nei pronto soccorso, ma gli psichiatri denunciano siamo troppo pochi. Ogni giorno, cinque ragazzi con disagio psichico si rivolgono ai grandi ospedali milanesi. La delibera regionale per le strutture con almeno dieci specialisti, organizzare un servizio notturno e nel weekend. Sì, perché poi, attenzione, stiamo parlando di malattie, l'essere mentale, l'assolutamente mentale è una cosa importante perché stiamo parlando di malattie che avvengono quasi sempre, soprattutto in menti di acuta, avvengono quando? A Natale, a Ferro Agosto, di notte, quando lo psicologo è chiuso, quando i centri più importanti sono chiusi e ovviamente avvengono in quel momento lì quando magari lo sconforto arriva più veloce, più forte, perché uno si sente un po' più solo, perché magari vede altri che si stanno divertendo, vede altre situazioni piacevoli per altri e non per sé e quindi durante le feste, durante l'estate, sappiamo c'è un accutimento pazzesco di queste patologie, durante le feste natalizie e ovviamente anche di sera, di notte e nei weekend e quindi benvenga appunto questo delibera regionale per creare delle strutture con almeno dieci specialisti al proprio interno e organizzare servizi di notte e nei weekend. E così, da una parte la carenza di personale che affligge la Lombardia, così scrive Corriere della Sera, così come il resto d'Italia, dall'altra parte il numero sempre crescente di bambini e ragazzi che arrivano in pronto soccorso per problemi di salute mentale. In mezzo invece ci sono i neuropsichiatri che si devono confrontare con la delibera appunto della Regione del 2000, delle Regole 2024 che dice appunto che programma la gestione dei servizi socialitari e la Legato 5 dice, introduce anzi una novità per gli ospedali che da oggi non hanno un reparto di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza ma garantiscono l'offerta di cure tramite ambulatori. L'assessorato al welfare chiede che queste strutture se hanno almeno dieci neuropsichiatri in organico prevedano anche l'organizzazione di turni di notte e nei weekend però il problema è che è tutta una roba di delibere e di prevedono se hanno più di dieci psichiatri. Il problema è che qui ci sono pochi invece pochissimo il personale sanitario è sempre meno e la domanda è sempre di più la stima come dicevo dal titolo leggiamo anche dall'articolo sul Corriere della Sina Milano la stima è di 4-5 ragazzi che ogni giorno arrivano nei grandi ospedali milanesi a seguito di atti riconducibili al disagio psichico o psicologico. lo so adesso voi come me che siete dei boomerang comincerete a dire ecco noi all'epoca noi di qua noi di là non è vero niente perché noi all'epoca noi di qua noi di là abbiamo gente che non ce l'ha fatta lo sappiamo tutti quanti abbiamo amici che non ce l'hanno fatta abbiamo amici che abbiamo lasciato sulle panchie del parchetto a bucarsi e quindi attenzione a dire sempre che le generazioni di oggi sono diverse da quelle di prima il disagio c'è sempre stato l'unica differenza sapete qual è che adesso finalmente c'è non dico il coraggio ma c'è l'intensità la voglia di parlarne perché sappiamo benissimo che se già ne parliamo già facciamo qualcosa di importante e si riesce magari anche a scardinare un po' il sistema Ken Gadnaff Jennifer Lopez alle 7.48 minuti ma adesso dobbiamo collegarci con un grande amico di Good Morning Milano un professionista di Crystal Radio sto parlando di Ambrogio Curti che dopo di noi andrà in onda alle 9.05 di ogni mattina con Senti Questa e questa settimana di che cosa ci parlerà quali saranno cosa ci farà sentire quali sarà questa questa che ci farai sentire beh io te lo chiedo a te allora Ambrogio linea di Ambrogio Curti e sentiamo il sommario di questa settimana di Senti Questa Senti Questa grazie mille Ambrogio Curti e sentiamoli insieme un'altra prima di andare in onda con il radiogiornale prima di avere qui gli nostri ospiti di oggi oggi parleremo di Vasca sì sì non di quella da bagno ma di quella di Bresso ah se ne parliamo ah se ne parliamo sì sembra anche di fanghi mi sa ma non quelli che fanno bene alla pelle ne parliamo fra poco prima invece il momento di Rose Villain con Click Boom a fra poco Dan Edmond Instant Replay 8 e 10 minuti questo era il Cristalistori delle 8 bentornati qui su Cristal Radio a Good Morning Milano e adesso iniziamo a parlare con la nostra ospite di oggi perché allora prima leggo i titoli giornali vediamo se riesce a non sobbalzare sulla sedia la nostra ospite entra in funzione la nuova vasca per non fare sondare il Seveso a Milano questo è Milano Today del 10 di marzo ma anche il Corriere della Sera Seveso ecco la vasca che ha salvato Niguarda e l'isola dalla piena del fiume iniziati i lavori per ripulirla dal fango buongiorno Mattilde Minella comitato novasca buongiorno è tutto così siamo salvi grazie a voi siete i nostri idoli solo che non siamo salvi noi anneghiamo noi no vabbè adesso a parte di scherzi nel senso allora diciamo che da quando la vasca è entrata in funzione in realtà 10 marzo riempimento emergenziale 9 febbraio invece con l'audo generale per cui in realtà è da febbraio che siamo in ballo la nostra vita è ulteriormente cambiata ed è stata una brutta sorpresa oltre a quello che ci aspettavamo perché allora finalmente così dice la città questa vasca è entrata in funzione la vasca di Bresso che ricordiamo essere una vasca un laghetto artificiale chiamiamolo così che dovrebbe riempirsi nel momento in cui il Seveso non ce la fa più e quindi butta l'acqua da quella parte di lì da un po' di anni siete sui piedi di guerra racconto prima il progetto poi la realizzazione e ora l'utilizzo di questa vasca i giornali appunto hanno il titolato Trionfante che la vasca appunto ha salvato Milano dall'esondazione dall'innondazione delle zone non entriamo nello specifico del sì o no è stata salvata Milano che poco importa a voi nel senso che no cioè mi importa nel senso che il vostro tema è un altro il tema è che voi vi siete sempre detto attenzione perché ce l'avete fatta sotto casa e questa cosa ci porta a dei problemi e la prova è stata che ahimè così è stato sì nel senso che l'entrata in funzione dell'impianto ha veramente reso concreto quello che noi sosteniamo da ormai quasi dieci anni ossia l'incompatibilità assoluta di un impianto di questo genere a 20 metri scarsi da un complesso di 2000 abitanti e ricordiamolo anche una materna e un nido quindi insomma target più che sensibili ricettori sensibili come si dice diciamo nel gergo e quindi diciamo che veramente noi abbiamo sperimentato che cosa significa vedere riempire l'impianto vedere decantare per giorni e giorni un'acqua marrone di un livello di insalubrità che finché non la vedi così non ci credi non te la immagini così e poi vederla svuotare e rivelarsi strati di fango di quantità chili e chili e chili di fango e detriti e rifiuti e sporcizia e poi appunto cominciare le operazioni di pulizia in teoria che dovrebbero essere salvifiche per liberare la popolazione da questo materiale fortemente insalubre e invece cominciano problemi peggiori ricordiamo che tutto quello che sta nel nucleo della nostra protesta è che comunque il Seveso è uno dei fiumi più inquinati d'Europa sotto agli standard di qualità ambientale dal punto di vista chimico e ecologico e questo lo dice Arpa Lombardia non lo diciamo noi tantissimi inquinanti chimici fattore ancora più degradante un livello di patogeni di origine fecale che soltanto lì è così alto perché arrivano tutti gli scarichi esatto voi l'avete letto l'articolo del Corriere della Sera quanto vi è piaciuta quella frase che proprio in apertura dice l'odore dei fanghi depositati sul fondo del maxi serbatorio è minimo è perché io col giornalista ho parlato il giorno prima ho parlato allora grazie Fabio di farmi questa domanda questo che è un punto fondamentale su cui stiamo cercando di fare divulgazione in questi giorni la questione puzza e odore allora al primo riempimento c'è stato il famoso odore nauseabondo che ha appestato mi guarda abresso in un modo allucinante la seconda volta un pochino meno ma a noi interessa veramente poco te lo giuro perché l'odore è un fattore minimo rispetto a quello che noi rischiamo e che sperimentiamo anche a livello della nostra salute nel senso che l'odore di fogna sarà emergenziale in luglio in agosto quando non puoi chiudere le finestre quando stare all'aperto è fondamentale e quindi diventa veramente un handicap in un certo senso ma adesso non è così ovviamente le temperature sono ancora basse l'esalazione è ridotta e quindi varia molto anche a seconda del vento dove tirano magari a una certa ora lo senti a una certa meno a volte sì a volte no ma non interessa poco e vogliamo farlo capire perché quello che ci dà fastidio anche di certi titoli è la ridicolizzazione noi non parliamo di puzza odore sgradevole noi parliamo di un'irritazione che si sta cronicizzando delle vie aeree ossia tosse tosse ma attacchi di tosse accessi di tosse faringite laringite gola quasi bruciante questo è la metà della popolazione l'altra metà simpaticamente congiuntivite occhi rossi e lacrimanti e più fortunati tutte e due insomma non si scherza con queste cose perché a parte il fastidio fisico questo è un campanello d'allarme vuol dire che lì dentro c'è qualcosa che esala che viene disperso durante le operazioni di pulizia che non ci dovrebbe stare che può essere il semplice fango comunque irritante che comporta con sé allergeni sporcizia e quindi non deve essere respirato oppure nella peggiore dell'ipotesi anche qualcosa di chimico che potrebbe poi avere effetti ben più gravi a lungo termine quello che però mi è sempre piaciuto del vostro comitato è che sì c'è quel no davanti ma era un po' difficile non mettere una forza ma un pochini no non ci sta quel no però non è che è solo un discorso di essere contrari voi avete sempre cercato un dialogo un dialogo importante un dialogo anche nel cercare di capire appunto cioè dire va bene gli odori non sono una cosa importante cerchiamo poi di capire che cosa viaggia nell'aria che cosa e su quello avete però difficoltà poi ad avere un interlocutore no? sì allora noi a livello politico è proprio un incubo nel senso che il comune di Milano non ascolta non recepisce niente perché il vostro interlocutore è il comune di Milano perché nonostante voi siete sul territorio di Bresso no decide tutto il comune di Milano e noi subiamo e questo è veramente abbiamo mandato PEC abbiamo avuto risposte PEC ma tutte proprio ripetere pari passo quello che noi critichiamo abbiamo avuto un interessante colloquio con invece il consigliere comunale Carlo Monguzzi che è venuto al nostro presidio dell'undici dopo il riempimento è stato molto sensibile ha cercato di portare in consiglio comunale le stanze nostre si è reso conto anche lui che aveva gli occhi rossi che gli grattavano gli bruciavano e questo sembra una piccola cosa ma è importante per noi perché solo venendo sul campo ci si rende conto appunto no vasca no vasca è un no che per noi è sempre stato in difesa della salute ossia vasca come simbolo di insostenibilità e inadeguatezza di un progetto che non ha mai accettato la minima modifica per venire incontro ai residenti a tutti i cittadini ai fruttori del parco ma anche nel rispetto delle mitigazioni previste che poi noi vediamo non è che vengono molto rispettate e ok allora adesso andiamo avanti ancora un po' a parlare con te e Matilde ma prima ci ascoltiamo un po' di musica chissà se quando parlava che veniva nella zona nord parlava proprio del parco nord e chissà se adesso verrebbe a cantare lì no? Sopra di Mahmood magari con tutta gold chissà se adesso verrebbe con la tutta gold con tutti i fan che ci sono non lo so e non lo so però così diceva che quando andavo nella zona nord diceva ok chissà se era proprio lì Mahmood con tutta gold qui su Crystal Radio good morning Milano Mahmood tutta gold la vorrei vedere la tutta gold in mezzo ai fanghi magari non dite che mai gli viene in mente per girare un videoclip poi non ve la pubblico neanche attenzione Mahmood non prendere spunti da quello che sto dicendo stiamo parlando della vasca di Bresso al comune di Milano non vi ascoltano così mi dici però appunto noi andiamo sempre Bresso 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 perché voi siete in territorio di Bresso e il comune di Bresso cosa fa? allora il sindaco Cairo proprio stamattina sarà in prefettura per parlare con il nuovo prefetto e chiedere di tenere aperto il tavolo sulla vasca di laminazione mettendo al centro le istanze igienico-sanitarie abbiamo avuto un confronto con lui abbiamo riportato tutte le nostre istanze quello che è successo appunto soprattutto come dicevamo sulle modalità abbastanza drammatiche di pulizia dell'invaso e lui proprio su questo vorrebbe andare a lavorare a chiedere delle migliorie perché appunto rispiegiamo un attimino com'è che avviene questa pulizia? cioè mi immaginavo arrivassero lì e prendessero il fango lo portavano dei camion e lo portavano via allora succede così prima di tutto la vasca rimane piena per alcuni giorni nel senso comunque lo svuotamento il riempimento è velocissimo lo svuotamento è lentissimo e quindi rimane e quindi rimane uno, due, tre giorni piena di quest'acqua terrificante insalubre poi progressivamente viene svuotata però diciamo che sul fondo rimangono quei bei 30-40 centimetri di melma per tanto tempo la croppa rimane esatto quella non te la togli per una settimana ok su questo contesto con le scogliere completamente imbrattate di fango imbrattato di fango in fondo arrivano i salvifici mezzi che sono sì con questi appunto operatori tutti bardati dalla testa ai piedi giustamente ci mancherebbe altro noi cittadini no però non siamo bardati purtroppo e questa era la mia ironia sono imprese sicuramente competenti però che si trovano a dover agire in un contesto molto particolare molto difficile e purtroppo con le lance d'acqua vaporizzano i sedimenti di fango e ce li spruzzano tutti letteralmente addosso alle abitazioni perché tu dici hai trovato spruzzi anche sul tuo balcone al sesto piano che è al sesto piano incredibile incredibile e non solo io è tantissimo 18 metri meno di altezza più o meno sì sì e ma perché è proprio il potere di questo effetto aerosol e di dispersione e di schizzo di roba insalubre ovviamente che però per assurdo anche se sembra degradante farebbe meno danno se rimanesse ferma lì ma questo noi lo diciamo da tanto tempo ma non viene recepito poi vi dicono prima avevamo detto che dobbiamo pulirla adesso la puliamo non vi va bene è comitato però anche voi non vi ascoltano ma noi abbiamo sempre detto che Arpa e ATS dovrebbero essere gli enti che decidono e dicono come ah ok 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 su Arpa me lo decidiamo perché su Arpa avete avuto un'interlocuzione con Arpa e è finita meglio di quanto pensavate benissimo questa benissimo ma ve lo diciamo fra poco perché prima andiamo con un po' di musica sempre qui su Crystal Radio sempre con Moni Milano notizie ma anche musica tutto quello che fa grande la nostra Milano e tutto quello che speriamo faccia sempre meglio e più grande la nostra Milano come magari risolvere il problema della vasca di Bresso andiamo avanti pronto Arianna Grande con Yes and perché quello che dite voi sì ma poi sì e sì ok va bene una vasca e va bene i fanghi ma poi come me li pulisci come me li porti via da lì spruzza tutto no dai un secchiello un paletto secchiello e portate via i fanghi da lì magari fate dei bei castelli di sabbia lo dico da MM dei castelli di fango facciamo va bene Arianna Grande Yes and Yes and Arianna Grande 7 e 27 minuti siamo qui pronti ancora a parlare con i nostri ospiti ma prima c'è una piccola pausa pubblicitaria perché dobbiamo in qualche modo mettere la sua in piedi da radio quindi mi raccomando anzi ascoltatela bene prendete appunti durante la pausa pubblicitaria avanti così con Diodato ti muovi Angelina Mango con la noia la noia che non c'è mai dalle vostre parti vero Martina e Minella adesso no vasca no sono periodi molto trafelati da quant'è da quant'è che non vi annoiate più ormai eh purtroppo tanto guarda da quando si è aperto questo maledetto cantiere quattro anni sono quattro anni ormai quattro anni devono essere un anno e mezzo siamo a quattro siamo a quattro anni e il cantiere nonostante la vasca stia funzionando non è stato ancora chiuso nel senso che c'è ancora cantiere voi non potete ancora andare alla vasca assolutamente no è tutto inscatorato nelle recinzioni ormai non ha nessun senso perché appunto collaudo generale fatto funzionamento emergenziale fatto percorsi ciclopedonali splendenti pronti tutto pronto buh le recinzioni rimangono recinzioni ancora su prima parlavamo di come con le istituzioni avete però dei dialoghi vari e diversi perché appunto da una parte il Comune di Milano con cui è difficile è complicatissimo dall'altra ad esempio invece ARPA che vi ha quasi stupito anzi sì devo dire che a parte che noi nutriamo da sempre un grande rispetto di ARPA perché è trasparente ogni volta che gli si chiede un dato dopo due giorni il dato arriva si va sul sito basta sapere un po' smanettare e trovi tutto quindi la grande trasparenza e competenza sì è successo qualcosa di molto bello il 5 settembre noi avevamo indetto un presidio sempre comunicato alla questura autorizzato e tutto presso la sede del Dipartimento di Milano di ARPA che ha la nuova sede dentro all'ospedale di Niguarda ok e niente il nostro obiettivo massimo era quello di consegnare un documento poi grazie anche devo dire a una grande mano che ci ha dato la questura presente che ha avuto un'opera di mediazione molto importante insomma praticamente siamo riusciti a farci ricevere dei dirigenti del Dipartimento e il direttore del Dipartimento di Milano è stato di una disponibilità incredibile ha fatto entrare una delegazione abbiamo fatto quasi una riunione e ci ha fatto parlare e spiegare tutto da lì in poi il rapporto appunto si è stretto ancora di più perché mentre prima facevamo semplicemente una raffica di segnalazioni mediante PEC che loro leggevano e che poi hanno dato luogo anche a sopralluoghi spezioni eccetera adesso qualcosa è cambiato nel senso che in febbraio appena prima del collaudo proprio casualmente siamo stati di nuovo accolti dai dirigenti che ci hanno tenuto quasi un'ora a spiegare le nostre ragioni e poi un risultato a cui teniamo tantissimo hanno vidimato la nostra documentazione inoltrandola proprio con la loro diciamo timbro tra virgolette insomma firma alle istituzioni di riferimento e quindi questo però è un segno di rispetto che da tante altre istituzioni non abbiamo avuto è fondamentale beh questo è interessante perché appunto se da una parte con alcuni si fa fattiglia con altri invece quando poi beh c'è anche di che sono tecnici quelli dell'arpa esatto è questo il punto non fanno politica da quel punto di vista si spera si spera diciamo quindi insomma qualcosa si muove quali saranno i prossimi passi adesso? i prossimi passi sono appunto che ovviamente noi continuiamo come ti dicevo a fare segnalazioni l'ultima è partita giovedì scorso proprio su questa giornata tremenda in cui oltre alle lance d'acqua che spruzzavano i fanghi si è aggiunto un simpaticissimo mezzo che spazzolava i percorsi e poi buttava fuori un vapore marrone da un bocchettone e praticamente siamo partiti alle 7 di mattina che avevamo il particolato a 20 PM2.5 30 il PM10 cioè normalissimo siamo arrivati a rispettivamente 55 e oltre 70 in un giorno in cui non c'era l'aria pesante a Milano come fate ad avere questi dati voi? perché abbiamo le centraline amatoriali nel senso ovviamente hanno una validità però insomma le usiamo in modo con criterio sempre confrontando ma saranno anche magari sbagliati ma se prima sono bassi poi sono alti comunque esattamente poi le confrontiamo perché ne abbiamo più di una eccetera poi durante il cantiere le abbiamo sempre confrontate con i dati di metropolitana milanese e coincidevano e niente quindi altra segnalazione ad ATS ed ARPA in cui abbiamo detto per favore sono 7 ore che respiriamo quest'aria che ci sparano anche questa polvere fermateli in qualche modo hai detto quant'era il particolato dicevi 55 il PM2.5 più di 70 il PM10 che è quello famoso che non dovrebbe superare i 50 ricordiamo che dopo dopo 5 giorni cosa è adesso mi ricordo quanti giorni dopo 5 giorni che si supera il particolato del PM10 si fermano le macchine esatto quindi attenzione insomma vuol dire che 70 ben oltre il 50 questo fa capire ancora per una volta quanto veramente la vostra protesta non sia una protesta solo del non mi piace avere il giardinetto sotto sopra non voglio tirarmi giù quell'alberello che ero tanto affezionato cioè adesso la dico male e altri comitati saranno incanzati con me per questa cosa però nel senso non è quello per voi è proprio una battaglia di salute eh sì salute e anche comunque l'aspetto ecologico che giustamente tu citavi appunto c'è l'aspetto più ambientalista come dire il verde non si tocca mai che è anche giusto e noi lo condividiamo ma in questo contesto il controsenso della grande deforestazione che c'è stata e che comunque che i 4 ettari rendevano l'aria diversa adesso senza quei 4 ettari e abbattuto anche il filare degli arberi secolari che non andava a confliggere con la vasca e non abbiamo assolutamente capito perché hanno voluto abbatterlo lo stesso noi ci troviamo senza nessuno schermo ed è per questo che poi si raggiungono questi livelli di inquinanza perché è un filtro ricordiamo sempre le piante non è un discorso di abbracciamo gli alberi perché li vogliamo muovere agli alberi fanno da filtro spesso con le radici sotto in modo che la terra rimanga ferma non ci sono gli smottamenti perché appresso non ci sono smottamenti però nel senso comunque fanno quello e fanno filtro sopra e certo infatti noi avevamo chiesto in tutti i modi di mantenere almeno quel filare consci del fatto che una vasca di liquami comunque avrebbe esalato non si sa che cosa perché ricordiamoci il famoso effetto cocktail io so cosa immetto ristagna i composti reagiscono non so cosa respiro parliamo di reazioni chimiche del cui solo facendolo è un esperimento molto probabilmente questo sembra purtroppo questo sembra noi stiamo reagendo abbiamo delle reazioni purtroppo la cosa che prima io prima ho chiesto una cosa fuori onda che vorrei ripararsi anche adesso beh ma non sarete gli unici in Italia a dover poter stare per una vasca di ingegna chissà quante vasche ci sono simili si andate a vedere le altre vasche allora di vasche allora in realtà non è che sia una roba molto praticata ormai perché è veramente vetusta tra le colette per esempio in nord Europa così viene guardata come una cosa proprio tremenda però ce ne sono ovviamente ad esempio quando si è parlato delle enormi nubi fragili e esondazioni in Veneto recentemente sono state citate alcune vasche molto grandi che avevano volumetrie molto superiori alla nostra che è impattante ma in realtà è piccola rispetto a queste altre che avevano avuto sembra un effetto e lì vabbè certo si può parlare di impermeabilizzazione e consumo di suolo ma la differenza sta che sono in aperta campagna e quindi i loro impatti sono ovviamente filtrati attutiti da una folta vegetazione e da uno spazio di centinaia e centinaia di metri che separa dai centri abitati e noi qui parliamo di 15-20 metri 30 quando va bene è quello la differenza è quella quindi insomma ancora una volta se avete bisogno di capire come il comitato lavora il comitato è andato a cercare il comitato ha cercato in altre zone per capire come succedeva e non avete trovato nulla di simile alla vasca di Bresso infatti la nostra vasca va in deroga su tutto è andata in deroga della distanza cimiteriale ad esempio per cui c'è c'è nel senso che c'è una legge del comune che prevede che praticamente non si possa scavare oltre i credo 150-200 metri da un cimitero per ragioni di rispetto ovviamente ma anche di salubrità e siamo arrivati a meno di 50 metri votato in deroga proprio l'andata in deroga votata forse l'ultimo consiglio comunale della prima giunta di sala se non erro praticamente questa cosa già era stata anche segnalata da TS questa durante la via come una cosa che non andava bene in deroga della fascia di rispetto del fiume perché in teoria c'è una fascia di rispetto di circa 30 metri ma ancora più stringente di 10 metri lungo l'argine di un fiume che non si può toccare in deroga anche quello tutto per pubblica utilità però noi ci chiediamo questo cantiere è da 4 anni che è ancora in atto per cui tutta questa pubblica utilità questa urgenza poi in realtà è strinsecata in una serie di ritardi e di anche insomma farragino funzionamento piuttosto farraginoso a parte appunto tutti gli impatti e la devastazione che è ambientale e anche igienica che stiamo sperimentando va bene allora Matilde rimani qui con noi così ci puoi citare tutti i contatti anche vari per potervi seguire e se ci sono anche dei prossimi appuntamenti andiamo prima invece con un'altra canzone parliamo di analisa con sinceramente qui alle 8.43 minuti crystal radio good morning milano a fra poco adesso vi diciamo anche come fare se volete andare a dare una mano al comitato novasca analisa sinceramente 8.47 minuti siamo quasi in chiusura con il nostro ospite ma prima di salutarci Matilde devi dirci un po' tutte le coordinate per seguire il comitato novasca e se ci sono prossime iniziative allora coordinate sempre le stesse pagina facebook brezzo novasca pagina pubblica dove noi mettiamo tutti i nostri annunci sia su quello che facciamo quindi ci potete raggiungere ma anche sulle segnalazioni e in tempo reale vi facciamo vedere cosa succede nella vasca quindi video foto tutto in tempo reale allora i nostri prossimi appuntamenti sono noi ormai da mesi facciamo circa ogni 10 giorni un presidio o sul lato di via Aldomoro lungo le recinzioni Milano oppure sotto casa nostra recinzioni Bresso quindi andiamo un po' di là e un po' di qua per farvi vedere i vari lati della vasca tempo permettendo sabato 23 dovremo essere lato Bresso a protestare perché chiediamo la rimozione delle recinzioni e la riconquista del territorio da parte dei cittadini poi una volta rimosse le recinzioni tutti insieme andremo a esplorare la vasca e ovviamente vi inviteremo insieme a noi una bella gita nella vasca va bene chiamiamo Alex Britti a cantare la vasca andiamo a vedere se va a un concerto nella vasca mi lavo mi asciugo non credo meglio di no meglio di no però insomma seguite quello che fa il comitato no vasca è interessante appunto anche tutta la parte molto tecnica che avete tra di voi nel senso che appunto fate anche delle ricerche fate anche dei dati non è solo appunto ripeto no sotto il mio balcone anche se insomma effettivamente non è proprio il massimo devo dire che tu sei passata in cinque anni dall'avere sotto il balcone cosa avevi prima? quattro ettari di area regionale protetta paradiso di biodiversità una cosa meravigliosa forse motivo anche per cui hai preso quella casa lì forse sì adesso c'è una bella vasca vuota perché poi il più delle volte è vuota c'è 30 centimetri di acqua di falda mischiata ai residui dei fanghi che è un elisir fantastico di lunga vita quindi neanche fosse vuota almeno ci va detto con lo skateboard neanche quella una bagnarola una bagnarola che si può riempire da momento all'altro senza previso arriva questa ondata marrone si vede proprio che scende dalla diga e poi sale 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 e diventa tutto orrendo quando avete visto che si stava riempiendo l'altro ieri la settimana scorsa quando è successo abbiamo messo anche le foto sulla pagina facebook abbiamo visto questo laghetto azzurro che veniva inondato come da questo tsunami marrone che poi prendeva piede come un'ondata e poi saliva appunto nell'arco di due ore la capienza di metà che era il massimo per quel riempimento era raggiunta beh insomma questo è quanto succedendo adesso date un'occhiata appunto alla pagina facebook dove c'è una foto video c'è tutto leggete anche i giornali così potete poi fare il raffronto tra chi dice una cosa e chi dice quell'altra e vedremo poi come andrà a finire perché sicuramente non finisce qui questa storia non può finire solo continuare purtroppo purtroppo giusto grazie mille di essere qui con noi ancora una volta grazie a tutti grazie mille grazie sempre al comitato per raccontarci quello che succede bene lì e noi siamo qua se avete bisogno noi siamo sempre qua grazie mille grazie ancora a Mattide Minella al comitato Nova Asca di Bresso andiamo avanti con un po' di musica prima di salutarci sono cinque ragazze che hanno fatto girare la testa tutti quanti secondo me anche Mattide ti piacevano all'epoca? si più Take That però a teori più da Take That giustamente no io più da Spice Girl invece perché adesso ascoltiamo le Spice Girls con Viva Forever 8 e 55 minuti di oggi lunedì 18 marzo 2024 siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano sono stati con noi oggi qui Filippo Poletti top voice di LinkedIn e poi Ambrogio Curti che ci ha presentato la settimana di senti questa e infine Matilde Matilde Minella del Comitato No Vasca che ci invita tutti quanti ad andare a Bresso a vedere cosa sta succedendo lì proprio dove c'è il Seveso la vasca di laminazione del Seveso lo abbiamo avuto ospite anche quest'oggi appunto Ambrogio ma dopo di noi fra pochi minuti dopo il giornale radio andremo dalla prima puntata della settimana di senti questa la grande musica nazionale ed internazionale raccontata dalla bravissima e bellissima voce appunto di Ambrogio Curti se invece volete sapere di più del Comitato Bresso No Vasca Bresso No Vasca su Facebook questo è il lunedì inizia così e va avanti tutto il giorno con Crystal Radio mi raccomando rimanete sintonizzati con noi qui sul 96.2 FM e Dub Plus noi invece ci risentiamo e rivediamo domani mattina come sempre dalle 7 alle 9 qui su Crystal Radio ma anche non dimenticatevi goodmorning.milano.it a domani buona giornata a tutti e good morning Milano ciao ciao